Giulio Evagua, primo giorno con la maglia bianco-rossa. Cosa ti ha spinto a scegliere questa destinazione? Mi ha spinto a parlare con il direttore Angelozzi, mi ha spinto a scegliere questa destinazione. Ovviamente anche parlando col mister mi ha convinto e oltre alla piazza, che è la piazza importante, questi due dettagli sono stati fondamentali. Che tipo di giocatore è Giulio Evagua? Un giocatore aggressivo, che ha qualche colpo in canna e cerca di sfoderarli il più possibile. Negli ultimi due campionati ti sei rilassato come uno degli attaccanti più prolifici della Serie B, anche nel mercato invernale hai avuto un sacco di richieste, sei un giocatore molto ambito per la categoria. Sono sicuramente un giocatore importante per la categoria, questo lo so, ma bisogna dimostrarlo sempre e cercare di mantenersi sempre al posto e mantenere quell'appeal, qualcosa in più che ti fa la differenza rispetto agli altri. Già da sabato riparte il girone di ritorno in casa con l'Entella, il Bari deve inseguire per collocarsi nelle posizioni alte della classifica. Penso che lavorando pian piano col Miba arriveremo dove tutti ci speriamo. perfetto inizia 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 Grazie a tutti.